Fra pochi giorni gli americani eleggeranno il prossimo presidente degli Stati Uniti dopo una campagna elettorale molto accesa. Di questo parleremo fra poco con il giornalista Marinozzi di Sky TG24. Moreno Marinozzi, scrittore e giornalista di Sky TG24, quest'oggi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, porta il suo ultimo lavoro, John McCain, tutte le guerre di Maverick, il calendario segna meno 5 alle elezioni americane 2008, da una parte Barack Obama con il pensiero democratico, dall'altra parte l'ideale repubblicano di John McCain. Prima domanda, come si è svolta la campagna elettorale d'America 2008? La campagna elettorale stranamente rispetto a tante altre campagne presidenziali americane è stata all'insegna del fair play, della correttezza, fino però a un certo punto, fino a quando è scoppiato il vero bubone di questa campagna elettorale, ovvero la crisi finanziaria, che ha condizionato tutta la campagna, ha condizionato i dibattiti televisivi che abbiamo visto, ha condizionato tutti i temi, costringendo i due candidati a rincorrersi su un tema sul quale probabilmente i due non sono così forti. Da una parte Obama, che è l'interprete del cambiamento, ha fatto della parola change, ovvero cambiamento, discontinuità, la sua parola d'ordine. Non è probabilmente l'uomo più preparato sui temi economici, ma forse meno preparato di lui, addirittura John McCain, che negli anni ha sempre avuto, nell'economia, nei temi della finanza, del mercato, soprattutto il suo punto debole, il suo vero tallone d'Achille. La storia elettorale americana ci ricorda che le percentuali di elettori in America sono spesso fortemente ridotte, sono assai basse. Come pensa che potranno rispondere gli elettori americani a queste elezioni alla Casa Bianca 2008 e soprattutto come risponderanno i giovani americani? Non aspettiamoci percentuali a livello europeo, a livello italiano. Rimarranno le solite percentuali di partecipazione americana, cioè molto bassa. C'è però un fattore nuovo, il fattore mobilitazione, che riguarda le minoranze, che riguarda soprattutto ovviamente gli afroamericani, qui naturalmente c'è tutto il fattore Barack Obama, c'è però anche il fattore giovani, perché puntando molto sulla sua campagna con l'utilizzo intensivo di internet delle nuove tecnologie, Obama è riuscito a portare alla politica e al Partito Democratico tante migliaia di giovani che non erano vicini alla politica, li ha portati in un modo nuovo, in un modo anche giocoso, scherzoso, ma insomma porterà soprattutto in stati chiave per l'elezione tanti elettori dalla parte dei democratici. John McCain ha presentato come candidato alla vicepresidenza Sara Palin, sin da subito ha lanciato questo fenomeno mediatico che dall'altra parte però ha creato anche questo boomerang che si è portato grandi scandali, scoop legati soprattutto alla aspirante vicepresidente. Quanto ha inciso e quanto potrà incidere sul verdetto finale questo fenomeno? Poco, in realtà poco. Quello che conterà sarà la crisi finanziaria e la percezione che l'elettore medio americano, l'elettore della classe media americana ha di questa crisi finanziaria e soprattutto dell'esecuzione delle ricette che sono state messe in campo dai due candidati. Sara Palin, allora, che fosse una scelta controversa e rischiosa lo si sapeva dal primo istante. Nell'immediato, appena dopo la sua scelta, McCain ha ottenuto grandi consensi per Sara Palin perché rappresenta l'elettorato duro e puro del partito repubblicano. Poi però è venuta fuori la sua inesperienza, sono venute fuori le sue gaffe. Scandali in realtà no, li abbiamo un po' gonfiati in Europa, non sono granché. Rimane il fatto che probabilmente è una persona che non è ancora pronta per rivestire un ruolo di primo piano e di così importanza rilevante come quello della vicepresidenza. Però Sara Palin ci riproverà nel 2012, dovesse andare male quest'anno. Anche per questa puntata è tutto e vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi. Grazie. 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 Grazie.